Il mio sogno è di giocare con l'Avellino in Serie A e fare la gorge alla Serie A in Italia. Voglio diventare un calciatore dell'Avellino. Forza Lupo! La voce di Giuseppe è una delle voci dei bimbi presenti alla consegna dei kit allo store ufficiale dell'Avellino. Le voci di Alessandro, di Mattia, voci innocenti ma con un grande sogno. Quello di Giuseppe è quello di giocare in Serie A con la maglia dell'Avellino e magari da attaccante qual è di realizzare un gol alla Salernitana. Sogni iniziati a settembre, sogni spezzati al momento da restrizioni che hanno bloccato il mondo delle scuole calcio. All'evento ufficiale dei Biancoverdi Molino ha fatto da padre e da mister a tutti i bimbi, calciatori dei lupi. Sì, diciamo che le piccole cose poi fanno grande una società. Un kit che ha omaggiato il Presidente in prima persona, quindi sono dei grandi gesti che hanno apprezzato tutti. È un buon inizio da parte del settore giovanile. La pandemia ci ha un po' fermato però ci auspichiamo tutti di poter ricorrere di nuovo tutti quanti insieme. Non solo i sogni dei bambini a fare da cornice all'evento, ascoltiamo qual è quello del Drago che ne ha fatto innamorare di bimbi 17 anni fa a suon di gol. L'obiettivo è di tutto il settore giovanile cercare di costruire i giocatori e portarli in prima squadra. Ci auspichiamo che ne possono arrivare più di uno, soprattutto se il Pino è ancora meglio.